Una task force dedicata per far fronte ad un periodo difficile che sta mettendo in crisi tanti ospedali del Lazio e d'Italia. È quella messa in piedi dalla ASL Roma 4 al fine di gestire la fase antecedente all'arrivo del picco di influenza e Covid-19 previsto tra qualche giorno. Una volta alla settimana la direttrice generale Cristina Matranga, il direttore del DEA, il Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione, Beniamino Susi, quello del Reparto di Medicina Generale, Giancarlo Gimignani ed il direttore sanitario del Polo Ospedaliero di Civitavecchia e Bracciano, Antonio Carbone, si riuniscono per affrontare insieme la delicata gestione degli accessi e delle dimissioni. Continuano ad essere tantissimi, infatti, i cittadini che si rivolgono al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, cresciuti in modo direttamente proporzionale al diffondersi degli adenovirus, dei rinovirus e del Covid-19, ai quali si è aggiunta negli ultimi giorni anche la terribile influenza stagionale. Arrivano al punto di primo accesso soprattutto pazienti anziani con patologie respiratorie oppure i genitori preoccupati per la febbre alta che ha colpito il proprio bambino o neonato. Ci vediamo ogni giovedì, spiega la DG Cristina Matranga, perché il nostro ospedale, così come gli altri, riesce a gestire bene l'aumento degli accessi al pronto soccorso, solamente se si lavora con accuratezza anche sulle tempistiche delle dimissioni. È un momento delicato per tutti, quasi di crisi, e per questo motivo abbiamo deciso di porre attenzione massima e costante a questo fenomeno che sta interessando tutto il Paese. Il San Paolo resiste bene in attesa del picco. La task force sta dando i suoi frutti perché l'ospedale di Civitavecchia, seppur sotto pressione, come aveva confermato il direttore sanitario Carbone qualche giorno fa, tiene botta, nonostante i 12 posti letto previsti al reparto di medicina e dedicati ai pazienti positivi siano completamente occupati, così come la maggior parte di quelli che si trovano nelle bolle di chirurgia, ginecologia e ortopedia non si registrano al momento criticità, con le attività che sono completamente garantite. Sono 12 le persone in attesa al pronto soccorso di essere trasferite nei reparti. Il tutto a poche ore, ormai dal picco dei contagi che dovrebbe arrivare proprio in questa settimana.